Arrivano risposte dalla provincia di Bari sulla strada Polignano-Castellana. Dopo le rimostranze del consigliere Lucia Brescia ai microfoni di Canale 7, si viene a sapere che la provinciale è già interessata da lavori. L'asfalto pericoloso nel tratto di Casello Cavuzzi sarà ripristinato dall'acquedotto pugliese nell'intera careggiata. L'ACP era intervenuto per lavori su alcune tubazioni. Quella dell'asfalto, sprofondato in più punti, è certamente l'intervento più urgente, perché è pericoloso per automobilisti e centauri. Per quanto riguarda invece l'illuminazione, la provincia fa sapere che i lavori sono stati già appaltati. Dal 20 maggio scorso una ditta di Grumo Appola sta intervenendo i più punti per sostituire i pali obsoleti e ripristinare la corrente elettrica. La ditta interverrà anche per allargare un tratto stradale nei pressi della strada comunale Foggiano-Tarnicola. Successivamente sarà mandita una gara di appalto per riparare i guardrail danneggiati lungo la provinciale. Ma non è solo la provincia a dover intervenire, dovrà farlo anche il comune di Polignano, perché la provinciale 120, nel tratto che va dal chilometro 3.2 al chilometro 5.7, è di proprietà del comune. Si tratta del tratto con il semaforo di Casello Cavuzzi, uno dei più pericolosi, con tante curve in solo i due chilometri. Anche qui, in alcuni punti, l'illuminazione è saltata e si dovrà intervenire quanto prima. Soddisfazione per le risposte della provincia e del presidente Schittulli è stata espressa dal consigliere Lucia Brescia. La stessa ha fatto sapere che solleciterà ora il comune di Polignano ad intervenire nel tratto di strada di sua competenza.